Amici tanaioli se volete sapere che cosa è arrivato oggi in collezione dovete guardare questo video per scoprirlo. Venghino signori venghino, venghino signori venghino, si comincia! Benvenuti nella tana del ragno ma soprattutto ben ritrovati con questo nuovo video. Oggi un bel recupero, un omnibus che andrà a arricchire la mia collezione già bella corposa per quanto riguarda questi balenotteri che sforna di tanto in tanto Panini Comics. È un balenottero, un omnibus uscito qualche tempo fa ma non vi anticipo nulla dovete vedere questo video. Prima di cominciare soprattutto per quelli che si trovassero per caso a passare nel mio canale e si fossero fermati a vedere un pezzettino di video che cosa potete trovare nella tana del ragno. Nella tana del ragno vi mostro la mia collezione perché io ragazzi sono un collezionista lettore appassionato di fumetti ormai da diversi lustri o diversi annetti diciamo così e quindi nel mio canale attenzione sì vi dico quello che mi piace che non mi piace che vi potrei consigliare o meno ma non faccio recensioni non do consigli per gli acquisti e soprattutto non troverete la conoscenza la wikipedia della marvel cioè io non sono uno che sa tutto e da spoggio della sua cultura non sono in grado non sono all'altezza oppure sono in grado ma magari non conosco tutto 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 quello che riguarda l'universo marvel per cui come dico sempre utilizzo i commenti i commenti con i quali voi potete interagire correggermi aggiungere e perfezionare quello che io vi dico con le vostre conoscenze quindi la tana del ragno è il nido di un appassionato lettore collezionista e quindi se siete curiosi e la vostra curiosità è anche morbosa perché vi dà proprio piacere andare a frugare tra le cose degli altri per vedere che cosa possiedono questo il canale che fa per voi e poi di volta in volta aggiornamenti nuovi arrivi in collezione unboxing più o meno grandi oggi abbiamo un solo pacchetto però vi assicuro che è un pacchetto da lecarsi le orecchie bene ragazzi detto questo fatto questo preambolo andiamo a fare l'unboxing di questo bel pacchettone bene bene vediamo un po vediamo un po che cosa contiene questa scatola un mattone speriamo di no ragazzi speriamo di no perché un mattone che ho pagato una sessantina di euro comprese le spese postali quindi mi auguro che dentro ci sia quello che ho acquistato pagandolo con uno sconto del 30 per cento sul prezzo di copertina perché questo è un volume che in fumetteria e sul sito panini lo pagate profumatamente ma io sono riuscito a trovarlo ad un venditore su su ebay che me l'ha scontato del 30 per cento eccolo qua guardate è è imbustato e quindi faremo l'unboxing anche del cellophane speriamo che si possa vedere bene inquadrare bene adesso ve lo metto così eccolo giriamo ragazzi mettiamo via le forbici ecco qua ragazzi marvel omnibus moon knight la sorpresa è questa oggi parliamo di come sempre prima di cominciare a vedere il contenuto del volume qualche piccola informazione su mark spectro alias moon knight creato a metà degli anni settanta da mohenge e perlin appare per la prima volta su werewolf by night numero 32 33 nell'agosto 75 e qui mi pare esatto mi pare che ci siano proprio le primissime apparizioni di questo personaggio la cosa bella apre una parentesi la cosa bella di questi volumi è che gli albi vengono presentati in ordine cronologico quindi le varie apparizioni mese per mese e non in ordine sparso casuale ma proprio con una logica di voler far vedere dalla prima all'ultima all'ultimo fumetto l'evoluzione del personaggio è anche la cronostoria che lo riguarda giusto chiusa parentesi in italia questo personaggio appare per la prima volta viene pubblicato per la prima volta sugli eterni numero 21 dell'editoriale corno che io come sempre ho qua casualmente adesso lo andiamo a vedere le traduzioni dell'epoca chiamarono questo personaggio con il nome bizzarro di lunar che non vuol dire nulla poi successivamente è stato ribattizzato il cavaliere della luna già un pochino più propriamente però in origine lunar qui abbiamo il cavaliere della luna e questa negli eterni numero 21 è la prima apparizione italiana del cavaliere della luna ossia lunar e poi successivamente ha fatto vari team up anche con l'uomo ragno per esempio ne ho preso uno a caso questo qui uomo ragno 273 in cui il cavaliere della luna che ormai è stato così ribattezzato si scontra incontra con l'uomo ragno poi ci sono stati tantissimi altri team up ma questo è uno di quelli che al momento mi è sembrato più cioè mi è saltato subito alla memoria in questo volume quindi possiamo trovare la prima serie di Mark Spector Moon Knight dal numero 1 al numero 20 e dal numero 16 sono tutti inediti sono stati da poco ristampati nella serie Marvel History che è un cartonato di Panini Comics che avevo ma che ho subito rivenduto perché avendo trovato l'edizione completa ho preferito non avere doppi in collezioni quindi ho ricavato un budget e adesso cominciamo a vedere questo bel volume al quale ho appena rimosso la sua pellicola protettiva e vediamo tutto quello che contiene molte di queste storie sono edite perché nel corso degli anni sono state pubblicate su varie testate mi viene in mente per esempio il Punitore di Star Comics dove per un periodo Moon Knight faceva Capolino cioè era uno dei co-protagonisti della testata oppure come ho appena detto anche la serie degli Eterni poi magari voi nei commenti aggiungete se vi vengono in mente ora io nel momento mi spuggono bene 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 cominciamo qui c'è un po' di inchiostro che ha ma è un difetto di stampa che ha un po' macchiato queste pagine bianche poi veniamo al nostro sommario che è sempre una cosa molto bella per gli occhi perché ci fa vedere quante belle cose ora lo sposto quante belle cose ci sono all'interno o qui come dico sempre io dovremo usare dal Kamasutra della Tana del Ragno che è un volume particolare in cui io spiego come leggere i fumetti come posizionarsi per leggere questi balenotteri perché ragazzi vanno appoggiati su una base stabile perché la mia paura è quella di rovinare il dorso e quindi difficilmente leggo questi volumi in poltrona sul divano stravaccato sul sdraio al mare ma solamente nella mia scrivania e in posizione che possa consentirmi di sfogliare senza rovinare il volume si comincia con Werewolf by Night del 75 numero 32-33 poi abbiamo apparizioni Marvel Spotlight abbiamo che continua poi abbiamo i difensori Defenders 72 e via via abbiamo settembre 77 Munk Night da Spectacular Spider-Man 22 ed è settembre 78 poi andiamo all'ottobre 78 ancora con Spider-Man Marvel 2 in 1 giugno 79 come vi dicevo la cosa bella è questo ordine cronologico che viene rispettato nel momento in cui vengono messe insieme le storie di questo volume e poi via via abbiamo anche delle storie tratte da Hulk Magazine infatti mi pare di ricordare che fu pubblicato anche nella serie quello in formato gigante dell'incredibile Hulk cosiddetta la seconda serie di Hulk e c'erano le storie di Munk Night e poi andiamo avanti vedo un Marvel Preview e finalmente Munk Night del 1 novembre 80 con la sua serie dall'1 al numero 20 quindi novembre 80 giugno 82 il famoso Werewolf by Night questi numeri li abbiamo già visti se vi siete persi il video relativo al Icantropus andate a recuperarlo perché vi dicevo che appunto c'erano questi team up con altri supereroi altri personaggi dell'universo Marvel tra cui il mostro di Frankenstein e appunto Munk Night questa è la prima apparizione Munk Night che dà la caccia al lupo mannaro poi abbiamo questo Marvel Spotlight e guardate che bei disegni che belle atmosfere in stile anni 80 anzi anni 70 ragazzi qui ancora siamo negli anni 70 metà anni 70 i difensori 47 e 48 che sono storie edite che si trovano in Marvel Masterworks i difensori e prima ancora in altre pubblicazioni della Star Comics Play Press e tante altre ecco qua queste mi pare che siano storie pubblicate a suo tempo forse mi pare di ricordare nel settimanale dell'Uomo Ragno ma non vorrei sbagliare comunque ancora i difensori i difensori numero 50 ora ragazzi non starò a farvi vedere tutte le pagine ve lo scorro velocemente voglio arrivare al primo numero della testata Marvel 2 in 1 la cosa è Munk Night questo è apparso su Fantastici 4 Sicuramont Sicuramont andiamo a pagina 400 ah qui abbiamo le storie di cui vi parlavo cioè dei Hulk Magazine storie apparse in appendice nell'incredibile Hulk di casa Corno con questi colori che ricordano molto l'acquerello questo stile molto molto bello molto molto bello saltiamo ancora siamo quasi a 400 ecco qua questo è il primo numero di Moon Knight con le origini e da qui inizia la prima testata dedicata al Cavaliere della Luna ora vado vado avanti ragazzi perché altrimenti divento noioso dalla numero 11 in poi ho intravisto un Vermin uno Spider-Man ragazzi uno Spider-Man nel numero ah è un Marvel Team Up annual si 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 me lo ricordo anche questo dovrebbe essere stato stampato da Panini Comics in uno speciale Marvel Team Up o For Fans Only una cosa qualcosa del genere andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti Moon Knight questo abbiamo il numero 15 questi sono tutti inediti ragazzi e qui quando io trovo storie inedite come vi dico sempre vado in brodo di giuggiole perché le storie che mi sono mancate quando leggevo questi personaggi cioè mi sono veramente mancate per vedere proprio le storie come andavano a finire ed è successo con diversi personaggi che fortunatamente oggi Panini Comics sta piano piano recuperando vi avevo detto di Spider-Woman e dei suoi Marvel Masterworks della Selvaggia Shulk e tanti altri personaggi e qui come sempre una bellissima galleria con le tavole dei vari autori varie copertine vari speciali come sempre fa Panini Comics quando ci delizia con un volume bello 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 corposo grasso cicciottello come questo che vi ho appena fatto vedere bene amici tannaioli siamo arrivati al termine di questo video spero di avervi incuriosito di non avervi annoiato e di avervi tenuto compagnia perché d'altronde quando uno segue YouTube va in giro in cerca di qua e di là nei vari canali è perché vuole passare tempo e vuole un po' di compagnia ma anche vuole scoprire cose nuove io spero mi auguro di avervi fatto scoprire un pezzettino di storia della Marvel ma soprattutto una bella cosa da poter acquistare e mettere in collezione se volete ragazzi ripeto qui non si danno consigli per gli acquisti ma vi faccio vedere semplicemente che cosa arriva in collezione che cosa metto di volta in volta nelle mie bacheche che cominciano a essere davvero stracolme quindi non so più nemmeno come aggiustare la tana prima di lasciarci no abbandonarci abbandonarci è brutto dai prima di lasciarci mi raccomando commentate interagite con le vostre conoscenze puntualizzate correggetemi bacchettatemi se ho fatto degli errori ma perdonatemi sono frutto del troppo entusiasmo della tanta energia a volte anche troppa che metto nel fare questi video e nel parlare e ci sta che di tanto in tanto sfugga qualche cosa possa dire qualche inesattezza o magari usare dei termini non proprio appropriati scusate il gioco di parole però come ho detto tante volte non sono uno youtuber professionista ma un semplice collezionista appassionato che vuole condividere con gli altri la propria passione sono Capitan America e anche io seguo la Tana del Ragno su Instagram dalla Tana del Ragno dove si sta veramente veramente da Dio in compagnia del grande mitico Moon Knight Mark Spector vi giunga il mio più caro amichevole amorevole fraterno ciao vi aspetto nella Tana del Ragno per condividere insieme a voi la mia grande passione per i fumetti in particolare Marvel e Spider-Man ciao 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 Grazie per la visione!